Il CIVICO 22 Ed è andata a scantarsi contro. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Caselle, la croce verde di Borgaro Caselle, la medicalizzata di Ciriè e la polizia locale di Caselle. La donna, subito affidata alle cure dei sanitari, è stata trasportata all'ospedale di Ciriè per controlli. Non è in pericolo di vita. Grazie.